Si è aperta con tante sensazioni positive la nuova stagione del Messina, 6 le reti realizzate nell'arco dei 90 minuti che hanno posto i peloritani all'equip Calabria, una rappresentativa che riunisce calciatori ancora senza contratto con un recente passato in D, eccellenza di promozione. Nonostante i carichi di lavoro, la squadra ha mostrato discreta brillantezza e solidità difensiva, nonostante le partenze di Tagliello, Ignoff e Cucinotta e il ringiovanimento del reparto. In grande evidenza, Re Giorgio Corona, a 40 anni con quella stazza, era lecito attendersi un lento ritorno alla forma migliore e invece il bomber palermitano è già il più in palla, come dimostrano le tre reti messe a segno in un quarto d'ora. Nel corso del secondo dei tre tempi, da 30 minuti disputati alla Barone Collice di Camigliatello Silano, strepitoso il sinistro al volo che si è insaccato sotto la traversa, celebrato anche dai sostenitori dei Nox e dei Lions. Al seguito, molto positiva la prima prova dell'ex spezzino Izzillo che ha l'onere di indossare sulle spalle il numero 10 che fu di Costa Ferreira. Eccellente l'apporto sulla corsia sinistra di Esposito, ex aversa Normanna, prima con gol per il napoletano Donnarumma, subito protagonista di alcuni buoni spunti. Infine esordio con doppietta per l'africano della Guinea, Idrissa Camarà, già in Italia per una breve esperienza con il Genoa, ma prima dello sbarco di Lomonaco e l'anno scorso in Belgio. Adesso sono ben sei gli atleti aggregati in vista di un eventuale tesseramento. Anche in virtù dei numerosi innesti attesi da Grassadonia, l'impressione è che alcuni verranno tagliati, anche se i 26 elementi attualmente in ritiro potrebbero restare comunque in gruppo fino a venerdì prossimo, prima della partenza per la Toscana, dove domenica 10 agosto è previsto l'esordio in Coppa Italia con il Ponte d'Era. In gruppo anche l'ex Alessandro Parisi, costretto ancora ad almeno un anno di stop per via di una squalifica. Il terzino sinistro ha chiesto e ottenuto la possibilità di mantenersi in forma insieme al gruppo di Grassadonia in Sila. Unico e indisponibile il venezuelano Paez, fermo per un affaticamento muscolare. Domenica nuovo test con la rappresentativa Cosenza, infine le prove generali di Team Cup contro il Corigliano, formazione che milita nell'eccellenza calabrese.